random pesce challenge ce l'avete consigliata bene i commenti come funziona andiamo a pescare il primo pesce che ci capita rarità decide la rarità delle armi che possiamo utilizzare bravi tutti tutti bravi forti complimenti consiglio non era richiesto però perché che riscusa che riscusa voglio giocare così che mi capita il pesce bianco anzi no peschiamo per forza delle poze però ok vi regalo il libro più bello del mondo perché mi scusa ma no non lo puoi regalare puoi non dire buccia che rarità è il nostro libro viola viola solo anzi blu libro ma che tristezza è leggendario leggendario una cosa rara che non si può trovare questo si trova in tutti i libri d'italia step in the blue questa era buona la chiudiamo la prima volta era molto triste fino ad ora adesso freni ha fatto quasi una decente chiudiamo qua finché possiamo secondo me è la cosa migliore la parte più difficile ovviamente raga è l'inizio perché vi riuscire a prendere una canna da pesca pescare qualcosa scappar via e andare per luttare le armi allora la prima cosa rara che troviamo c'è la prima rarità che troviamo pescando qualsiasi tipo di cosa decide la nostra realtà che sia un'arma che sia un pesce che sia un pavone che sia un tricheco decidete voi trovi sarò beh stef che c'è non hai mai trattato un tricheco no comunque c'è gente c'è gente c'è gente sì 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 ok li vedo ok guarda che bell'arma verde lì ma freni ci sono canna pesca sì dentro il cestino ah meno male questo se lo spacchi anzi lo puoi già guarda che bell'arma blu che non posso prendere allora pozzette pozzette perché ovviamente non mi prendo il barattolo bianco ah lì giù porca miseria ti ho abbandonata sì molto eh sì sto seguendo al moto ok dove sono le pozzette cosa le pozzette ce n'è una qui ma questi mi sparano quelli della canna infatti io sto prendendo questa ferre ti conviene questa no 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 non vuoi prendere la mia stessa pozza palese pensi di essere più fortunata di me vado verde ok via 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 andiamocene ok ora dobbiamo andare a luttare ok veloce scappo 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 pesce verde anche tu proprio così classico e vabbè la cosa è la cosa più probabile a livello di rarità il pesce viola è più raro le armi sono più rare quindi è normale però va bene ce la possiamo cavare questo è l'importante allora tanto verde comunque si trova tanta roba quindi facciamo un pit stop qua dovrebbe esserci almeno una chest se abbiamo fortuna ci darà ma la barca esplosa ha fatto rumori ok smg verde prendi dai qualcosa anche qui dentro fucile a pompa vai prendi prendi ho sbagliato facciamo così facciamo così facciamo così ma butto non la sopporto più ti regalo un pesce tanto ne è già uno grazie e allora andiamo ma esplosa la nostra barca non lo so ha fatto ha fatto dei rumori orribili però qua vieni rumore strano perché c'è la barca qui di fronte che almeno una cesta quindi riparcheggiamo potevamo direttamente ragazzi oggettivamente oppla e vai prendi non fare complimenti e lo shield non hai preso te sì andiamo ok che odio che odio allora e qua facciamo anche questo ponte la ponte challenge vai 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 andiamo qua come vuoi no qui c'è la gente sì c'è gente e guarda l'ho costruito sì 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 eh non peraltro perché io una pistola andrei a fightare ma ho una pistola vieni gli altri che hanno luttato bene ormai mi fa molto ridere come stiamo giocando è proprio per dire gli altri che hanno luttato ormai saranno equipaggiati mediamente bene quindi io sono forte milì ma da lontano non posso fare nulla dai allora puoi farci volare guarda lì cilini 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 tieni medikit tieni eh ok allora qua sotto tu stai sopra perché credo ci sia qualcosa sotto c'è un fucile a pompa bianco che non possiamo prendere un altro fucile a pompa bianco che non possiamo prendere smg vieni eh aspetta però fammi vedere sopra allora lo prendo e te lo porto su dall'altro lato c'è gente sento qualche dell'ontananza mi sembra che fosse una nave niente lì eh m16 bianco qui dentro un altro medikit c'è una cassa però ok pompa bianco perfetto e bianco verde ovviamente vai scilla ne prendilo tanto io ne ho altri due ok per ora io ho il pompa classico è una pistoletta e anche l'smg allora butto la pistoletta va sti colpi me li prendo ok ci manca l'erro entrambi quindi possiamo andare a frenzi adesso no let's go vediamo un po' come va tuffo della fede porca miseria che ho paura ogni volta sì let's go ho paura di non prenderlo non so per quale motivo che magari ci sia un po' di vento mi sposto e muoio ecco qua e roba del genere eravamo stretti eh c'è da dirlo eravamo veramente giusti giusti d'accordo diventano anche tramonto il momento perfetto 4 sì 330 ho visto quindi due team che fightano ok forse che non poterli sparare con una r è un po' un problema già soprattutto perché siamo distanti qua hanno lutato tutto accidenti spero di trovare l'r in ruolo non bigliamo per ora anzi devo per forza ecco qua si a te a te e ma da dove ah è 60 gradi lo vedi dove di fronte a me vabbè che ci fanno lì non lo so ma è smiratissimo povero magari è un bot fare bot con luce verde non ho più niente porca miseria non riesco a salire stef non ho più una ceppa bot 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 però sì mi sembrava un bot quindi ero tranquilla c'ho qualcosa di verde hanno prato a check inarmi eh a sparare pure a me eh tattico eh famas smg tutto verde era sì 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 ottimo dove è il famas no l'ho preso io ovviamente ah ok ottimo vabbè vabbè occhio ci vogliono check inare eh tanto io non mi sporgo non ho una r ovvio se lo fuggiappa un po' non ci arrivo che stanno lì diciannove è bianco diciannove è bianco occhio io non ho materiali ahà quindi gestisciteli bene se riesci a buttarti nel fiume possiamo andargli addosso mi butto vado dritta no cavolo così ti sto coprendo sì 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 vai 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 sono tranquilla ok eccomi sto dietro di te aspetta uno è nel cespuglio occhio stanno fettando vero mhm come è possibile sono altri team sono altri team staff arriva gente dalla nostra destra ah infatti li sentivo da lì aspetta eccoli 29 l'altro è sopra occhio che vuole check inare staff mhm infatti staff anche l'altro destra copriti copriti non avevo materiali era fermo che cercavi di check inare arti maledetti oh questi cecchini ci sei sì è una bruttissima situazione però già tirato tre granate qui porca miseria io non senti non li sento non li sento ma dov'è fere sono morti mi fate un'ansia lascia aperte lascia aperte li hai presi i cilini ne ho uno one sec che mi voglio prendere anche la R mi ritiro al volo e mi prendo la R porca miseria sono strani i suoi di queste cose 100 no staff aspetta mi sto tirando un medikit secondo te sono felice di fightarlo ti sto coprendo ok no mi sparano dai che noia giù giù tiro i pesci e arrivo c'è la zona però quanta gente ci sta fuori zona non ho più materiali basta 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 indietreggiamo si li sto fare killando il mate andiamocene andiamo non ho più materiali ho bisogno di farmare hai cure ho bisogno di curarmi si ho due medikit perfetto via 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 perché c'è tutto sto casino non l'ho mica capito tutti qua erano stanno faietando ancora lì fuori si 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 sono uccisi tre di loro tirati un ah vabbè non sprechiamo i medikit shillini non li hai presi alla fine eh li ho tirati e li ho finiti e non ne hai altri no ho sparato per sbaglio io ho uno shillone vabbè ti me lo tiro io me lo tiri tu non lo so 20 io devo cercare di farmare un pochino 22 22 accidenti questi non dovevo missarli se li tolgo shill inizia a essere messo male no da dietro basta con sti cecchini in sto gioco vieni a billare ma da dove lì sopra io non ci credo prenditi la card quindi ho shillone eh ma me ne vado vediamo se riusciamo a combinare qualcosa dove sta a tua destra a tua destra lì lì sopra non lo so ma non ho entra in sta casa vabbè che devo fa dopo che mi tiro lo shill eh oh dobbiamo fare guarda 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 ma perché è pieno di gente con gli sniper così c'era uno qui davanti che mi stava mirando che suica oh che nervoso lo vedi lo vedi ti sta mirando di fronte a te però non è uno dietro rush allo rush allo billa vai è uno dietro vai a pompa vai a pompa tranquilla si chiude vai spamma lì di smg vabbè vai vai cattivissima ok è più basso di te vabbè buonanotte brava fere tirati il medikit veloce tira il tiro subito non so se per il tempo si devi correre volevo restare corri dritta non fare nulla corri dritta basta però avevo gente dietro qualcuno magari prima di morire mi spara si lo so corri piccola fere corri eh corri ma sono lontanissima però ho tipo quattro medikit ne ho luttati altri esatto cecchinate sento tira 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 vai tira 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 altrimenti mori oh c'è gente che cecchina guarda dai che ci fa qui sparalo corati 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 non ce la faccio si ce la fai shut up e ti prendi la barca con calma ok vai 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 la raggiungi la raggiungi nuota e salta nuota e salta bravissima che brutta continua così voglio morire comunque ho visto che poi c'è una zona per riportarti in vita vai ti dico io quando andare poi a terra boost brava vai ancora vai ancora boost e ora appena il prossimo boost giri a sinistra ok vai gira ora a sinistra e boost molla la barca scendi 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 ok gira a sinistra anzi fermati 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 più di gente nasconditi qua nasconditi qua non buildare vai medicit più di gente mamma c'è lì qui sopra lì davanti adesso devi tornare eh no non mi puoi restare c'è la faccia vero dovrei puntare qua prova a costeggiare torna indietro torna indietro costeggiando vai builda e sali builda e sali con calma miseria con calma poi mi si flipa al salto capisci vai poi ho pochi materiali quindi basta ok continua a correre sali da destra sali da destra se non ti dovrebbe vedere da qua si si vabbè c'è vabbè c'è 40 secondi per raggiungermi se riesci a restarmi poi le siamo più voci della zona non ricaricare nulla e corri lo so lo so infatti pensavo di averla già carica perché non ci sono più i trampolini ah che brutto match ma tragedia se mi trovo qualcuno qui guarda mi arrabbe un sacco 24 secondi non so se ce la faccio io ci provo dai ci provo no secondo me devi andare in zona lo sai ma che faccio poi solo e io pistola che faccio ti do qualcosa io non lo so no 10 secondi devi mollare vai gira da accidenti oh per poco e poi non ce ne sono che sfiga che stiamo chiudendo in una zona dove non ce ne sono uuuu scillini vede prenditeli ci provo si 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 ma c'è qualcuno qui no no nascosto no 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 si vai vengo in pace prendo questo e me ne vado te lo giuro corri via corri via corri via ti stai a pompa ok non spararlo è di fronte a te lo vedi ti voglio bene ciao villa ok smg smg maledetta ricarica ci ho tutto in carica ma questo è un bot c'è rimorta 72 volte si 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 c'è tutto in carica non ho mai tempo di fermarmi a ricaricare è una follia sto match se non era un bot la seppellivano pure oh che vuoi entra in casa hai tirato uno shield uno eh oh li buttiamo qua e controllarla pure sta casa dai da brava non mi piace giocare da sola mi fa bene l'ansia perché che ti ne ho dito ho roberto fai schifo era un sniperato cioè l'infame a 40.000 metri di altezza allora ho tutto carico io lo voglio ritrovare quel maledetto tutto carico si ok aspetta guarda anche pochi colpi non me ne frega ricarico tutto brava complimenti eh io sto qua non ho il limite farma almeno spacca legna vai spacca tutto vai 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 boom 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 che noia ma perché devo rimanere io da sola entra in casa c'è nella porta vedete qua c'è magari c'è un uno shieldone non penso controlla tutto ok colpi vabbè altra legna da farmare ok colpi normali non li prendere però non li spacca neanche l'altra porta destra quale? questa ok la zona bello il bagno via ok cos'è? che paura cos'era? ah il faro fa sto rumore mi sembrava mi sembrava qualcuno che stava suonando un pianoforte in casa mi è sceso un infarto occhio ma che stai comacciata? dentro ci spuglia bene avanza ma dove vado? entra in zona villa vai villa 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 qua fermati qua si 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 va bene mi cecchinano ok così va bene basta non spreco perché ne ho troppo allora osservali osservali che stanno fightando vai 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 quello è tuo ma qui c'è qualcuno vai dici si si belli sinistra l'altro eh lo so però no 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 niente ormai ti guardano mi cecchina questo perché era già pronto quel cecchino ha costruito ovviamente ricarico volevo mettermi la trappola poi mi sono ricordata mettiti un muro anche qua che tanto la gente non può venire qua già spambilla spambilla tu e altri due però gli altri due secondo me sono un bot e quindi sono nascosti quindi sei tu contro questi due che sono un bot pure io tanto il livello è quello quindi eh eh vorrei avere un lanciaraggio rianimami per si si maledetto rianimami ta ta u da dove mi pigliano veri fondelli da dove stanno sparando ma che ne so bila uff ah lì alla destra da dove qui no più in diagonale vedi quella costruzione gigante si si ma perché ce l'hanno con me non lo so sono sola vai lì alla destra ecco avanzati così si metti qualche muro ogni tanto brava finito i matti praticamente nah ne hai ne hai eh questi me li ritrovo qua prendi esatto prendi la punta di quella montagna mhm è buona la tua posizione fare vai sei matto oh cavolo no questo è un subbot però eh billa 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 copriti fatti riasciare esatto falli venire a riasciarti accidenti lo faccio peccato eh stef che devo fa va bene così fare ma che va bene così che schifo va bene così mi lasci da sola fa tutto schifo e sta vita basta per tutto sei preparato basta sei stata brava no ma che schifo che figuraccia basta cancella il video ok cancella il video raga ci fermiamo io rosico perché c'è davvero un sacco di gente che sta giocando perma col cechino devi guardarti dietro anche l'angolo del cucuzzolo è una roba veramente fastidiosa però ci si deve arrangere così qui sotto compagni altri video iscriviti al canale cappellino e ci vediamo al prossimo video ciao ciao